È ormai un appuntamento tradizionale, da qualche anno Autumnia si apre con questa iniziativa particolare che vede coinvolti i ragazzi delle scuole, qui siamo al Matassino, i ragazzi della scuola media Leonardo da Vinci, la sezione qui appunto del Matassino, stanno piantando degli alberi, in questo modo si dà via Autumnia e si insegna anche ai ragazzi ad avere rispetto dell'ambiente. Sì, quando le tradizioni piacciono le manteniamo molto volentieri, anche quest'anno abbiamo deciso di far partire Autumnia con la festa dell'albero, coinvolgendo i ragazzi delle nostre scuole. Autumnia è una gastronomia ma non solo, è anche attenzione all'ambiente e oggi facciamo una cosa molto semplice, lo dicevamo prima con i ragazzi, piantiamo degli alberi, facciamo un gesto piccolo oggi che poi può diventare grande domani, con la crescita degli alberi e vedere quanto siamo stati bravi e attenti all'ambiente in questi anni. Autumnia vuol dare anche questi messaggi, diciamo così, di attenzione alla natura, di attenzione al territorio circostante, la festa dell'albero è un bellissimo momento per fare queste cose. I ragazzi tra l'altro si divertono e imparano. Sì, lo scopo è proprio questo, di festeggiare la giornata nazionale dell'albero con un appuntamento che i ragazzi sembrano apprezzare molto, sia perché lavorano manualmente, sia perché capiscono quella che può essere la funzione dell'albero nella loro città, nel loro paese. La funzione che è contrastata in tanti aspetti ma che poi fondamentalmente è importante per tutti e serve a migliorare la qualità della vita di tutti e anche di loro. La cosa bella è che piantano quando sono piccini e poi negli anni vedono crescere questi alberi che rappresentano un po' la continuità della loro vita e della vita del comune. Le essenze con che criterio vengono scelte? Allora, quest'anno abbiamo scelto il cipresso perché avevamo l'obiettivo di nascondere dal giardino, che è molto frequentato via Boratino, i capannoni industriali. E quindi abbiamo scelto il cipresso perché ha questa crescita colonnare che poi negli anni crea una barriera. L'anno scorso, per esempio, invece avevamo il desiderio di fare una piccola forestazione urbana, quindi abbiamo scelto le piante forestali, dalla quercia al leccio, all'orniello, al frassino. Quindi ogni anno, a seconda della funzione che deve svolgere il verde urbano, scegliamo le piante. Quest'anno volevamo nascondere un po' di capannoni e abbiamo scelti cipresso.